A due anni dal primo storico scudetto peserese di calcio a 5, l'Ital Service ci riprova e lo fa nel suo terreno di caccia preferito, il Palanino Pizza. L'impianto di Pesaro è stato infatti designato dalla divisione nazionale calcio a 5 come sede ufficiale delle Final Four di Futsal 2020-2021. Il 37esimo scudetto si deciderà dunque nell'impianto di Campanara fra il 17 giugno e il lunedì 21 giugno. L'Ital Service se la vedrà di nuovo con la fel di Eboli in un remake della finale di Coppa Italia vinta dai pesaresi a Rimini lo scorso aprile. Sul fronte opposto Meta Catania e Cam Dosson regaleranno una finalista inedita. Saranno proprio trevigiani e siciliani ad inaugurare nelle giovedì delle 17.30 le Final Four nell'impianto peserese. A seguire alle 20.30 Pesaro scenderà in campo con Eboli. Il giorno seguente le semifinali verranno replicate alla stessa ora per una qualificazione che si giocherà sul punteggio combinato della doppia sfida. Anche la finale sarà doppia, gara 1 domenica 20 giugno alle 21 e la decisiva gara 2 lunedì 21 giugno alle 20.30. L'Ital Service vuole scrivere un'altra pagina della sua storia sempre più scintillante in un evento che in ogni caso segnerà una piccola grande svolta per lo sport pesarese, perché sarà il primo appuntamento sportivo nazionale disputato alla presenza del pubblico. Secondo le normative anti-Covid vigenti saranno infatti ammessi 500 spettatori. Secondo le normative anti-Covid vigenti saranno infatti ammessi 500 spettatori.